Se ne ha accorto un addetto alle pulizie svuotando questo cestino nella sala partenze, con le solite cartacce c'era uno strano involucro, un rotolo di carta igienica non più grande di 4 cm, dentro polvere piriche e chiodi, nessun innesco ma abbastanza per far scattare l'allarme ieri sera nell'aeroporto Carol Voitila, Bari. Sono arrivati gli artificieri e hanno portato l'ordigno in laboratorio, fatto in maniera così rudimentale da non esplodere o al massimo da poter creare danni a un metro di distanza. Trattandosi però di un aeroporto, le misure di sicurezza sono scattate tutte e le sale sono state bonificate. Ora aspetta la polizia di frontiera capire chi abbia lasciato quella bombetta in un cestino dei rifiuti. L'ipotesi prevalente è che si sia trattato di un passeggero. Arrivato alla zona d'imbarco si sarebbe reso conto di non poter superare i controlli e avrebbe deciso di disfarsi dell'ordigno artigianale lasciandolo nel cestino. Tra le partenze di ieri non c'erano mete a rischio come l'Egitto ad esempio, solo voli per Monaco e la Romania.